Si apre veramente una nuova era sul fronte della richiesta di occupazione, un nuovo capitolo, tra l'altro abbiamo assistito anche ad una firma importante di un protocollo nel nostro territorio con tanti attori proprio per seguire il modello delle Accademy. È aperto il bando? È aperto un bando su Biella per quanto riguarda l'Accademy del Tessile e anche delle Green Jobs, 5 milioni di euro dedicati alla formazione, ma una formazione assolutamente innovativa dove sono le stesse aziende che scrivono i corsi di formazione sulla base delle loro necessità e delle loro esigenze. Questo per arrivare ad essere il più puntuali possibile in quell'incrocio domande e offerta di cui oggi sappiamo esserci un grande gap nella nostra nazione e quindi lavorare a colmarlo. Questo consente sia alle nostre aziende di mantenere e incrementare competitività perché avrebbero le figure professionali che servono, sia per sostenere il dato occupazionale perché evidentemente chi si forma seguendo quei corsi sa che ha già degli spazi e degli ambiti lavorativi assicurati. Allora, lo abbiamo detto qualche tempo fa, un grande investimento per Biella e naturalmente anche Torino. Ci sono 2.000 figure che mancano nel territorio biellese. Si parte anche dal portale Io Lavoro? Assolutamente sì. C'è tutto un passaggio di innovazione anche dei servizi informativi, dei centri per l'impiego che vogliamo innovare. Anche su questo fronte ci sono stati degli importanti stanziamenti proprio per adeguare il funzionamento dei centri per l'impiego alla realtà anche dei territori. Quindi ci sarà un ruolo dei grandi protagonisti anche per il portale di Io Lavoro perché è proprio gestito andando a raccogliere le esigenze dei vari territori. La Regione Piemonte ha di capillare sulle nostre province i centri per l'impiego e quindi da lì si parte.